Oege, poltrona taglio parrucchiere, specifiche, pompa idraulica bloccabile con freno regolabile, schiuma ad alta densità realizzata con stampo, struttura interna metallica, base rotonda di metallo cromato, sedile monopezzo senza spazi vuoti, che impedisce l'accumulo di capelli, caratteristiche tecniche, lunghezza, 66 cm, larghezza, 62 cm, altezza minima, 44,5 cm, altezza massima, 56 cm, diametro della base, 55 cm, peso, 17,3 kg, carico massimo, 150 kg, tappezzeria, PVC.